E ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo e fantastico video di Brawl Stars in cui giocheremo insieme a un mio carissimo amico che si chiama Alessio Ma prima di partire, sigla! Ok ragazzi, spero la sigla vi sia piaciuta e adesso andiamo a fare un po' di kill Allora, noi adesso insieme al nostro carissimo amico dovremo giocare in sopravvivenza Però, stavolta useremo Hank, me l'ha consigliato lui, io lo faccio E giochiamo, allora, prima di tutto prendiamo questa cassa Ok, stiamo attenti ai colpi di Squeak Prendiamo quest'altra cassa Ok Attenzione che qua c'è il Mortis con un bel po' di power up, adesso lo killo Ok, killato Allora, adesso aspettiamo con cautela che nasca il mio compagno Ok Ok Andiamo a fare altre molte kill Ok ragazzi, dovrebbe essere rimasto solo questo tick Invece no, è pure spawnato il carissimo Mortis Ma tutti killati Easy 9 coppie in più ragazzi Prima o poi arriveremo a un rank più alto con Hank Ok Ok Allora Secondo me potrei cambiare brawler In Sapete che non saprei Però Draco ci sta, dopo tutto non lo uso nemmeno tanto Vabbè, andiamo Allora Ragazzi, adesso Prendiamo sta cassa E adesso con Draco Sarà difficile Perché dovrò colpire Con la punta Praticamente a distanza un po' Perché se no Non faccio praticamente niente di danno Allora Ok Killiamo Sto carissimo Bombardino E adesso Killiamo pure Sto Lily Ok Tutti fuori Comunque È OP ragazzi Il Gadget Di Draco Perché Cioè Lo rende praticamente immortale Per due secondi Fino a quando Non resta uno di vita Cioè Potentissimo Allora Adesso è respawnato il nostro compagno Io Mi Faccio la super Perché ovviamente Si ricarica la super con i danni Risparmio sta super qua che ho io Perché Almeno Forse la uso adesso Perché tanto Anche lo stesso Non penso che Dai Usiamola Almeno Pure nel fumo Posso passarci Bene Perché tanto io Non prendo tanto danno Cioè Allora Adesso È rimasta Lanita qui Sarà un po' difficile Visto che ha 10 power up Ma ce la possiamo fare Allora Eh no Impossibile Raga Vabbè Ci abbiamo provato Allora E mentre Di grado stiamo salendo Oh però Epico Vediamo L'ultima volta Ci è uscita una skin però No Stavolta è uscito qualcos'altro Ragazzi Sì Allora Spero ragazzi comunque che il video vi stia piacendo Mi raccomando se non l'avete ancora fatto Lasciate un like ed iscrivetevi E comunque se non l'avete notato Si sto risparmiando Tante mega calze così che alla fine Potrò Prenderle tutte Allora Chigliamo sta bibi E adesso Chigliamo sto 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 Gadget Purtroppo ci chillerà perché Con la super mi avvelena Lasciando quella benzina cos'è Ok Mi sa che questo surge È un po' Baggato Cioè Ma tutto ok? Vabbè Noi lo chigliamo tanto Easy Scontro finale ragazzi Mi preparo già la super Perché eccolo 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 Dai ce la possiamo fare Dai andiamo andiamo Gadget Tattico E no Non allontanarti così che ti becca Vabbè Noi ci abbiamo provato ragazzi Ma anche lo stesso avevano Più power up di noi E quindi Non ce l'abbiamo fatta Comunque Ragazzi Spero che questo video Vi sia piaciuto Se non l'avete ancora fatto Iscrivetevi E lasciate un bel like Iscrivetevi Perché siamo quasi 300 iscritti E ci vediamo Al prossimo video Ciao Ciao